Bella a tutti ragazzi, io qua al Jonix ho ritornato in un nuovo video Ragazzi oggi siamo qui su Terraria Premium E incominciamo con un nuovo... Non è Premium, lo sai bene? Sì, è Premium No, perché ci sono altri... Non è Premium? No A poter dire è un bugiardo Non è Premium perché quella in Play Store ci sono tantissimi mobs Beh, almeno di qua ci sono boss Di qua ci sono boss Però in Play non ci sono altri boss Cioè come ad esempio... Sì sì sì, certo Non lo so Bob Bob No Allora costruiamo dopo la casa No, costruiamo l'ora Ok Io ho tantissimi Che c'è? Ma tu hai un nuovo personaggio o questo? Sì ho un nuovo personaggio Ok, bene Perché se no Perché noi dobbiamo incominciare da zero Oh Perché se incominciamo da mille Se sapete che cos'è Questo coso specchio magico Si utilizza la mano Per teletrasportarsi Sì per tornare a casa Nello spallo E poi Perché io ho fatto... Io ho trovato una trappola di dardi Può essere qui si posizionato per fare le trappole Una è il per il nuovo? Un elfo, un elfo, un elfo Ma tu ce l'hai già un elfo? No, non ce l'hai Ma questo è un nuovo personaggio Oh, una chiave! No, no, questa ci serve Ci serve moltissimo la chiave Un mio Aspetta Apri una tassa d'oro Oh, quella si... Oh, no, no, no Quella ci serve Aia, 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 aia Oh mio dio quanti slime Ma che cavolo ce ne sono le quattro Bene Slime a parte Aspettati, devo dare una cosa bella Cosa? Buon Natale Buon Natale, Johnny Ma che buon Natale? Già sta arrivando l'epifania Eh, giusto Però è un regalo da parte da te Perché mi ha aiutato A creare il canale A creare il canale Mi ha aiutato a fare qualcosa E... Perché sempre ti ha aiutato a giocare? Io lo so fare Ah, no? Non lo sai come si fa a creare Tu dici, ah, no? Io lo so fare Io lo so fare Invece tu non lo sai Sì Dio Dio santo Dio benissimo Buonissimo Livissima Fischissima Dai Non sai come si giacca Non... No, no Aspetta, te l'insegno Che viola Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Alleluia Sono un genio Sono un genio Dai, è molto stupido Anzi, io lo so Sono abbandonato la partita Perché non ho abbandonato la partita? Perché non ho abbandonato la partita? Ok Ehm... Sto perdendo un sacco di anni Oh mio dio Ci sono anche questioni in un mondo Pensavo non ci fosse Ok, sto... Tu dove sei? Se non lo spanno Lo spanno a tutti Ok Ehm... Scusa Ehm... 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 Il mondo Una pianta afferratrice del drago Sì No, quella ci serve Ci serve per fare... Come si chiama? Oh ma la... Ehi la? Oh mio dio Oh sinto Oh sinto Oh sinto Sinto No, vattene di là Vattene... No, no, no Un'altra punta afferratrice Non una pianta afferratrice Ma la spatola di... Sant'Lucilla Dove la trovo? Non mi piace Non mi piace questo... Aspetta, io... Io attacco questo Ahia, porchetta Porchetta la porchetta Tieni No, sono morto Tieni Sono morto Sono morto Uccido con l'arco Uccido con l'arco Ciao Jeff Come va? Yes L'ho ucciso Oh, tu? Perchè hai un arco io no? Perchè l'ho craftato prima Anzi Facciamo Devi prendere Ferro Sì, ma tu dove sei? Sono dove sei Un morto ferro Oh, una tomba La tua tomba C'è scritto E' un giorno che sei stato distrutto dalla ponte frenatrice del bravo No problemi Welcome to the hell What? Welcome to the hell What the hell? No, è marato No, è di nuovo incastrato Ehi, guarda, è il mio marchio Il mio marchio Di nuovo incastrato Oh, io ti vedo la tua testa Guarda qua Sì Sì Se posso ucciderlo Maronise Ok Maronise Me lo farei Con sedia grande Sono un genio Sono un genio Sono un pro della madame Dai forza Ferratrice Non c'è pianta Uno slangolo Oh, figo E' la mia prima volta E ti uccide se Quello è Ferratrice Ma è enorme Oh no, è finito È finito Ci vuole un oro Eh, ci vuole dieci anni Aspetta L'ho ucciso Non sto uccendo Sto uccidendo La pianta Noni Oh no Un pipistolo Della giunca Quali sono i cazzotti Non sto parlando Sto parlando Sto parlando Ho un Ah, prendi questi funghi Mi do cuore Prendi questi funghi Ma perché non ti uccide? Perché non ti uccide? Perché Non lo so Prendi questi funghi Che queste Ti danno vino Lo devo Sono andato di nuovo qua Ma come lo mangio? Mangia così Aspetta Devi solo fare così E via Secondo te Ah, altri funghi Questa Mi danno di più No Non uccidelo Non uccidelo Sono un pro Altrucca Un pro pro A che ora Siamo un pro Ah, bui più strano Bui più strano No, quella ti uccide No Sei in pericolo Eh ma Tu non sei tanto Ma che cos'è Ma da Gelatina Antigelatina Coniglio Mi sta uccidendo Siamo già a 6 minuti Oh Dai però Eh ti uccide Regalo giallo Dai facciamo la cosa Ok Facciamo la casa Non lo spaule Non lo spaule Già te l'ho trasportata Adesso sta Non vedete Dannazza Ma dove si Ok Eccati Allora Facciamo la cosa No Sì No 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 C'è uno slimy verde C'è uno zombie No No C'è uno zombie verde Oh Chris Attaccate Dante Attaccate E l'ho ucciso Ahah 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 Forza fai la casa Schiavi Eh E' un feto Tu hai Si ma E' un poveraccio E' un poveraccio E' un poveraccio Io non l'ho più Ecco 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 Due Due lignoni Due lignoni Io ti difendo Ti difendo il culo Ti difendo il culo Vabbè salto Facciamo la parte 2 raga Ok E' Ma quante zombie Oh mio dio Chiudemene Ci sta un'ora Forza Sì vabbè ma quanti zombie ci sono Due zombie Occhio al demon Occhio al demon Madonna Ma perchè questi elfi non fanno niente Stupidi elfi su Ah ecco Ho due lenti Posso craftare degli occhiali Ma quanti zombie ci sono Rampage 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 Oh sorry Leroy Che scooge Ti scaggio Ti scaggio Arushka Ecco qua Lei è uccisa Adesso ha dei regali Ho un mezzo Ho un mezzo cuore O un altro zombie Vabbè ragazzi Spero che questo video vi è piaciuto Commentate Iscrivetevi E condividete ai social Per aiutarci a Crescere E noi ci vediamo nel prossimo video di Terraria Iscrivetevi al mio canale Iscrivetevi anche a Johnix Al mio vabbè